Nell'Alessandrino non si parla d'altro che del vincitore che ha sbancato il super enalotto di 13 milioni di euro con una giocata da 10 euro alla ricevitoria all'edicola di Castellazzo. E' caccia per individuare l'identità del fortunato e anche il presidente della provincia Paolo Filippi. Questa mattina ad Asti per la Costituzione dell'Associazione per la Candidatura come Patrimonio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato ha scherzato sulla questione affermando che non sarebbe stato presente se fosse stato lui il vincitore. La titolare dell'edicola, Daniela Palumbo, afferma che si tratta di una persona sola poiché nella sua ricevitoria non vengono effettuati i sistemi e probabilmente anche di una persona del posto dato che il locale è situato nel centro del paese. Quindi è difficile pensare che qualcuno proveniente da fuori possa essere arrivato solo per giocare e poi essere ripartito. E' la prima maxi vincita al super enalotto nella ricevitoria della signora Palumbo. Fino ad ora al massimo erano stati vinti 1.800 euro. E intanto torna all'allarme smog nell'Alessandrino in provincia. A partire dal 28 dicembre il livello delle polveri sottili ha superato il limite medio giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo. Il valore più elevato a Tortona, centro microgrammi al metro cubo il 2 gennaio secondo i dati di Sistema Piemonte.it curato dall'ARPA. Dalle registrazioni della centralina di via Lanza ad Alessandria la concentrazione di PM10 non è mai scesa al di sotto dei 50 microgrammi. Limite di legge oltre il quale l'aria è considerata inquinata e costituisce un pericolo per la salute. L'assessore provinciale competente Lino Rava parla di condizioni meteo favorevoli con pioggia che quindi dovrebbero far rientrare tutto nella normalità. Il rischio è però che la situazione torni a peggiorare nel corso della settimana anche perché le previsioni parlano di tempo stabile almeno fino a sabato con la possibilità quindi di un nuovo innalzamento delle polveri. E cambiamo nuovamente argomento. La cittadella di Alessandria si trasforma in set per le riprese conclusive della fiction televisiva violetta prodotta da Magnolia per Rai 1 con l'appoggio di Film Commission Torino-Piemonte. Fino a sabato sarà ricostruita una manifestazione di protesta con l'intervento di truppe austriache in un cortile interno della fortezza. La cappella dell'ospedale militare ospiterà i feriti mentre nei sotterranei del quartiere San Michele saranno girate le scene di incarcerazione dei protagonisti e dei manifestanti. Le scene nella cittadella a cui partecipano circa 100 comparse saranno le ultime di circa 8 settimane di lavorazione per una storia di passione romantica e civile ambientata negli anni dell'Unità d'Italia e liberamente ispirata alla traviata di Giuseppe Verdi. È tutto pronto al Megaplex Stardust di Tortona per il Legend Film Festival, la mostra cinematografica durante la quale saranno proiettate alcune tra le più indimenticabili pellicole della storia. Si partirà domani con il film Culto, la febbre del sabato sera con John Travolta nel ruolo del leggendario Tony Manero, commesso di Brooklyn che sfoga la sua frustrazione nelle discoteche durante il boom di fine anni 70. Il Megaplex ospiterà il festival ogni martedì fino al 29 marzo. Per leggere il programma, effettuare prenotazioni o ricevere qualsiasi tipo di informazione si può consultare il sito web www.megaplex-stardust.com E così per il momento da Alessandria e provincia è tutto, noi vi ringraziamo per l'ascolto e la linea torna allo studio. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.